Ciao a tutti, sono Yasmin, vengo dal Veneto e ho deciso di venire a studiare a Kojice perché ho provato il test d'ingresso in Italia e purtroppo sappiamo tutti quanto è difficile. Così ho scoperto questa agenzia Medical Tutor che mi ha aiutata durante questo percorso e ho deciso poi di venire qui proprio perché si studia in lingua inglese e il metodo di studio è molto diverso rispetto a quello italiano che è molto tradizionale. Qua invece si alterna la teoria con la pratica, è una cosa molto buona soprattutto per il futuro. Ciao a tutti, sono Claudio, studio Dante e Adria qui all'Università di Kojice. Le differenze con le università italiane principalmente sono i test frequenti ogni settimana, si viene sottoposti a prove continue che ti permettono di avere una costanza negli studi. L'altra fondamentale differenza specialmente di noi di Dental è la pratica, infatti noi in anatomia studiamo direttamente sui cadaveri oppure per propedeutica lavoriamo direttamente sui denti, per cui è fondamentale come fondamentale aspetto di questa università.